Come mai molto spesso le diete falliscono? Il motivo è che noi accumuliamo nel corpo una condizione chiamata acidosi tessutale, spesso frutto della metabolizzazione, della digestione e metabolizzazione delle proteine che creano questi acidi, sia le proteine vegetali che quelle animali, molto più quelle animali. In una situazione di acidosi il corpo fa in modo di trattenere i liquidi e poi stoccare tutti quelli che sono i materiali di scarto o in eccesso, che sono alla fine tossine, in depositi che sono gli stessi depositi in cui vengono poi accumulati i grassi. Se questa condizione quindi non viene eliminata, il cambiamento di peso forzatamente ottenuto con una dieta sarà solo temporaneo, perché non sarà cambiata la condizione all'interno del corpo. Se invece noi andremo a eliminare le tossine che sono legate, sono stoccate negli stessi punti dei grassi ed eliminata l'acidosi, proprio attraverso una detox naturale, elimineremo la causa e primo avremo un dimagrimento o una regolazione del peso più naturale e secondo questa durerà molto molto più a lungo nel tempo, perché sarà un effetto collaterale del cambiamento positivo dell'equilibrio interno del corpo. Un caro saluto a tutti da Giovanni Grisotti, responsabile dell'Associazione Italiana della Prevenzione Primaria e del sano stile di vita.